Finalmente l'ho trovata, c'è una cosa di cui voglio assolutamente parlarle, Quinto Kage! Ma come? Sei tu, Hinata? Naruto, il mio Naruto, non siamo mai stati così vicini. Come mai hai la faccia tutta rossa come un peperone? Non ti sarà avvenuta la febbre, per caso? Attenta, cosa stai facendo? Oddio, non ce l'ho più questa volta. Grazie, Leonardo. C'era, c'era. Sono cresciuto, questa è... Parliamo di 2006, 2007. E' un Naruto Shippudan 2007, eh? Questo è Naruto ancora normale, perché c'è la divisa arancione. Un grande applauso a Leonardo. Leonardo Graziano. Grazie, Leonardo. Bazinga. Tecnica della moltiplicazione del corpo. Ra Sangan! Grazie, Leonardo. È vero. Oddio, sigle, tra fantasy e cartoni, tante voci, di amici e doppiatori, grandi sigle, insieme a noi tu canterai, ridirai, l'infanzia con noi. Grazie.